Black Clover è l'anime battle shonen più sfortunato ma coraggioso che sia mai stato fatto. Ho già fatto una breve recensione dell'anime, una serie che personalmente non disprezzo affatto. Si tratta sì dell'ennesimo shonen tradizionale classico, ma che a differenza degli altri ha avuto la genialità di raccogliere tutti gli aspetti più apprezzati degli altri shonen più famosi, riproponendoli in salsa diversa. Per molti questo è un lato negativo, si potrebbe parlare quasi di plagio anche se non concordo perché molti altri shonen si somigliano tutti in un l'altro ed in più Black Clover sa proprio di star facendo questo. Ovviamente elimina completamente l'aggettivo originale per ciò che concerne l'opera, ma sinceramente io la ritengo una buona mossa per andare sul sicuro e realizzare una serie che sarebbe dovuta diventare mainstream. E c'è pure riuscita. Ma non voglio più dilungarmi su questo, sappiamo tutti che si tratta di una serie piuttosto criticata dalla massa, ma anche apprezzata da molti altri. Non solo per ciò che ho detto prima, ma specialmente per le brutte animazioni che hanno contraddistinto diciamo quest'anime. Ed oggi vorrei appunto dire la mia riguardo questa cosa. È vero, Black Clover ha tante brutte animazioni, ha tante puntate animate male e brutte da vedere. Ma a parte questo diciamo che ce ne sono comunque alcune, non molte, che invece mostrano un grande apparato tecnico veramente molto figo e anche di alto livello. E di solito queste sono le puntate più importanti ai fini della trama dell'anime. Puntate che spesso vengono animate da importanti animatori e sicuramente molto capaci. In realtà però anche gli animatori meno conosciuti che fanno le altre puntate della serie potrebbero regalarci dei migliori disegni e delle migliori animazioni nel caso in cui avessero almeno più tempo per produrre le puntate. Infatti è proprio questo uno dei problemi della produzione di Black Clover. Il fatto che i tempi per produrre una puntata siano veramente stretti e ridotti. Quindi sicuramente le tempistiche che danno gli emittenti per pubblicare le puntate in tempo ogni settimana sono una delle cause principali del pessimo lavoro in alcune puntate. Ed in più sappiamo che lo studio Pierrot ha avuto numerosissime problematiche interne allo staff proprio per ciò che riguarda quest'anime. Tra mancanza di addetti a determinati lavori e soprattutto la mancanza di figure molto importanti come ad esempio il producer. E spesso viene quindi sostituito da qualcuno che non dovrebbe fare quel lavoro come ad esempio il regista stesso. In sostanza ci sono troppe poche persone che lavorano per questa serie. Nonostante si tratti di un anime long running cioè uno di quelli che insomma ha una puntata ogni settimana e ne avrà così ancora per molto tempo. In pratica le serie molto lunghe. Come ho già detto in molte puntate lo stesso regista ha dovuto occupare dei ruoli non appartenenti a lui. Ma nonostante ciò questo regista di Black Clover, Yoshiara, è comunque riuscito fino ad ora a portare sempre avanti questa serie. E regalarci ogni tanto come nella puntata 63 della trasformazione di Asta o altre anche nell'ultima saga importante che c'è stata. Che hanno avuto delle animazioni realizzate benissimo. Che non a tutti possono piacere ma sono di indubbia qualità. Un merito che io mi sento di dare davvero a Black Clover riguardante l'apparato tecnico. E non si tratta delle musiche perché in questo caso quelle che veramente sono bellissime sono di solito le opening e landing. E non le OST che sono anche abbastanza dimenticabili. E proprio la regia, i movimenti di macchina che a parer mio sono davvero mostruosi a volte. Ci sono delle inquadrature e movimenti davvero ottimi e particolari che in tantissimi altri shonen non ci sono. Purtroppo lo spettatore medio ovviamente non si rende conto di questo. Dando diciamo maggiore importanza alle animazioni non di alto livello ecco. Anzi parliamoci chiaro sono veramente brutte alcune. Che poi personalmente ho notato delle persone che apprezzano degli anime più recenti che in realtà non hanno dei bei apparati tecnici proprio per la grafica. E questa cosa mi sembra un po' strana. Ma in ogni caso sappiate che molte puntate di Black Clover durante gli scontri hanno una regia veramente eccezionale. Dovreste semplicemente cercare di vedere le inquadrature, i movimenti, il modo in cui i personaggi si muovono. E noterete che sono molto diversi rispetto a quelli degli altri shonen. Qui magari le inquadrature sono più statiche, più basic, che hanno sempre lo stesso modo di girare le scene e cose così. Quindi ragazzi oggi spero di aver chiarito un po' questa questione riguardo Black Clover e le sue animazioni tanto criticate. Ovviamente con questo video non intendo dire che si tratti di una serie eccezionale perché non lo è mai nella vita e nemmeno si avvicinerà mai ad essere una serie eccezionale. È pur sempre il classico battle shonen con i soliti personaggi più piatti, con delle saghe un po' più fighe di altre, con i soliti cliché e colpi di scena. Che alla fine di nuovo è davvero interessante e non ci dà quasi nulla. Ma nonostante ciò se ad una persona interessa il genere del battle shonen allora sicuramente questa serie intratterrà come minimo. Vi farà trascorrere quei 20 minuti di una puntata con leggerezza. A volte vedendo delle belle scene, tante altre volte vedendo delle cose un po' bruttine ma che comunque magari vi invogliano a vedere la puntata successiva. Ripeto, questo è un anime che può essere visto esclusivamente da chi apprezza i battle shonen. Quindi se non vi piacciono i battle shonen classici lasciatelo perdere assolutamente perché è sempre la solita cosa. Quindi ragazzi lasciate un like se il video vi è piaciuto, seguitemi su tutti i social mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti.